Buongiorno, buongiorno e buongiorno! Come padre di due figlie posso immaginare che in questa situazione avere personale, medici e infermiere che si occupano di loro, che se ne prendono cura, che sono qui per tenere loro la mano, sia la cosa più importante. Obama è stato letteralmente acclamato da un centinaio di persone, pazienti e dipendenti della clinica, riuniti per l'evento. Merry Christmas!